Antonello Caporale, gli scandali in Italia sotto il profilo della raccolta differenziata del trattamento dei rifiuti sono all'ordine del giorno, qual è la strada da seguire? No, lo scandalo è che, lo dicevo prima, mi sembra la cosa più giusta, non pensiamo al futuro, pensiamo al presente, non pensiamo a uno sviluppo che sia compatibile con il nostro sistema di vita, dobbiamo utilizzare la testa e immaginare nuove forme, il rifiuto a chiusura, a zero produzione di scarto è una nostra necessità, noi dobbiamo tutelare la nostra vita, il nostro territorio, il nostro sapere, la nostra cultura ma anche il nostro futuro, nel presente queste forme di illustrazione di come si gestisce una materia complessa, costosa, che produce divisioni sociali, produce grande anche interesse alla criminalità organizzata, è una discussione che apre un mondo, come hanno fatto altrove? In Italia ci sono decine e decine di luoghi in cui la diffusione avanzata della raccolta differenziata produce ricchezza, non povertà, diciamo che dobbiamo, abbiamo pochi soldi, abbiamo la crisi, dobbiamo sviluppare l'idea che il rifiuto non sia più un rifiuto, ma che sia un vantaggio, uno scarto da cui potremmo poi ritrovare altre cose per noi, se modifichiamo il nostro linguaggio e anche la nostra idea, trasferiamo alle parole un senso diverso da quello che diamo, troveremo un futuro nel nostro cammino. A partire naturalmente il primo passo dovrebbe fare la politica? Sempre così, la classe dirigente ma anche la cittadinanza altiva, bisogna avere senza comune per il bene comune. Rossano Ercolini, l'esperienza di Cappannori cosa può insegnarci? Può insegnarci che una comunità quando prende nelle proprie mani il proprio destino può scrivere una storia a lieto fine. A Cappannori la regione toscana voleva realizzare un inceneritore, se l'avesse realizzato probabilmente nessuno si sarebbe occupato e accorto del comune di Cappannori. Per averlo sconfitto e soprattutto per aver fatto partire un modello alternativo che poi è diventato il modello rifiuti zero, oggi Cappannori è un luogo che attrae moltissimo interesse giornalistico, dell'informazione ma anche turistico, perché il nostro comune è uno dei pochi comuni che ha incrementato la presenza turistica. Non so se deriva direttamente da questo fatto, sicuramente Cappannori ha guadagnato in notorietà. Quali sono queste principali best practices nella differenziazione dei rifiuti, nella raccolta e differenziazione e poi smaltimento? Innanzitutto la migliore buona pratica è stata quella di coinvolgere la comunità, quindi con una modalità comunicativa che si è basata sull'informalità, un'informalità che non vuol dire però andare a casaccio, un'informalità voluta, cioè mettersi sullo stesso piano dei cittadini, non essere burocratici, non essere coloro che pretendono che il cittadino debba eseguire degli ordini che calono dall'alto. Avendo instaurato un modello di comunicazione paritetico, orizzontale, i risultati sono venuti perché poi in fondo in fondo al cittadino, se viene spiegato bene, non costa granché separare la frazione umida dalla carta, dai metalli, dal vetro, dalle plastiche. E anzi il cittadino si accorge, addirittura fa gara per minimizzare ulteriormente e magari lo trovi per strada e qualcuno ti dice guarda io ho fatto una prova, in fondo al mese ho prodotto meno di un chilogrammo di rifiuti. Quindi c'è anche un'emolazione, naturalmente nel caso di Capannori c'è anche l'orgoglio di essere una comunità che viene presa a modello. In molte realtà però al cittadino che differenzia poi non si ripercuote una diminuzione per esempio nella tarifazione delle immondizie. Ecco, come risolvere il problema? Beh, intanto sta agli amministratori adottare come priorità la valorizzazione anche dell'aspetto economico nei confronti del cittadino, dell'utente. Cioè bisogna ricompensare l'utenza facendola pagare di meno. D'altronde il sistema porta a porta ha un tasso di efficienza molto maggiore rispetto al sistema tradizionale stradale. Quindi è possibile, seppur non dovunque nella stessa misura, ritagliarsi un segmento di risparmio da spalmare sui cittadini virtuosi. Penso a tutta la collocazione remunerativa dei materiali che provengono dalle raccolte differenziate, le plastiche, la carta. E in quel senso i comuni spesso non si impegnano adeguatamente per garantire una purezza merciologica che consenta le maggiori remunerazioni disponibili. Chiaro che se la carta è sporca, la plastica è sporca, la remunerazione non solo non c'è ma devi comunque pagare anche se di meno dello smaltimento.